Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sono Alessandra Ciavarria e oggi nella nostra lezione numero 17 del corso di archeologia medievale parleremo di incastellamento, conquiste agrarie e redefinizione del popolamento rurale nel basso medioevo. Tra la metà degli anni 70 e gli anni 80 l'archeologia medievale italiana è stata profondamente condizionata dall'importante studio di Pierre Tubert sulla Sabina. Questo studio, condotto sulla base dei documenti scritti del monastero di Farfa, proponeva che il popolamento precedentemente sparso di questo territorio sarebbe stato accentrato nel corso del X secolo con la costruzione, promossa da questo monastero, di castelli in siti di altura precedentemente non occupati, quindi che il monastero avrebbe potenziato e promozionato la costruzione di castelli ex novo. Due scavi, condotti successivamente in Sabina, hanno individuato tuttavia sequenze che non rientrano in questa rigida interpretazione. A Caprignano, un villaggio d'altura del X secolo con edifici in legno, viene fortificato non nel X, ma solo nel XII secolo, mentre a Castiglione, una residenza signorile del X secolo con un grande edificio di trebani, non era fortificata. Alla tesi di Tubert, Chris Wickham, richiamando altri documenti, in particolare della Toscana e la Lucchesia, ha contrapposto invece un'evoluzione diversa, proponendo che i castelli si sarebbero invece evoluti a partire delle curtis alto medievali, che sappiamo già cosa sono. Più recentemente, nel 2018, lo storico Sandro Carocci ha proposto di distinguere quattro fasi dei castelli sulla base delle loro comitenze, tipologie e funzioni. Nella fase 1, databile tra il IX secolo e la seconda metà dell'undicesimo, i castelli sarebbero stati fondati soprattutto dai vertici del potere, e cioè i grandi ufficiali pubblici, carolingi, e i vescovi, ai quali si sarebbero poi affiancati come comitenti, monasteri e nobili di relievo. Questi primi castelli, tra IX e XI secolo, dalla struttura materialmente molto semplice, avrebbero avuto uno scarso impatto sul popolamento, a causa dei modesti investimenti economici e la scarsa capacità di migliorare la produttività e di incrementare la commercializzazione dei prodotti. Una seconda fase, tra la fine dell'undicesimo e la metà del dodicesimo secolo, nelle nuove aristocrazie spostate dalla città alle campagne, costruiscono dei castelli per esercitare la signoria territoriale sui contadini e sulle campagne attorno al castello. Questi castelli, questa volta, si caratterizzano per la diffusione delle tecniche costruttive in pietra per cinte e per residenze. Nella terza fase, dalla metà del dodicesimo al tredicesimo secolo, vengono costruiti nuovi villaggi e i castelli diventano già delle residenze signorili, forse per il diminuire della violenza signorile e il fatto che non erano più necessari queste grandi fortificazioni. Finalmente nella quarta fase, tra la fine del duecento e la metà del trecento, si sviluppano ancora alcuni centri e in relazione all'estendersi dell'insediamento sparso, ritornano le fattorie del territorio, forse in rapporto alla mezzadria, mentre alla lunga i castelli evolvono in residenze signorili. È evidente che si tratta di una sequenza interessante, applicabile in generale a molte aree, però che non può essere applicato dappertutto. Nel caso ad esempio di Padova è proprio alla metà del duecento, quando sappiamo che la maggior parte di castelli vengono costruiti, fortificati, rifortificati, distrutti a causa dei conflitti tra il territorio di Padova e i Marchesi d'Este e Zelino. Ci sono eventi raccontati nella cronaca di Rolandino, si tratta di un periodo realmente molto litigioso in questo territorio e quindi possiamo pensare che i castelli, almeno nella marca trevigiana, continuano a funzionare in questo momento come sedi di difesa. Tra l'altro Rolandino ci racconta molto bene come erano questi castelli e i loro elementi fondamentali, dalla cinta muraria al mastio e al palazzo dove abitava il signore di questo castello. I castelli della Toscana, grazie a Riccardo Frankovic e ai suoi allievi, sono di gran lunga in Italia i meglio studiati dagli archeologi, grazie anche a un cessimento sistematico a partire delle fonti scritte e delle ricognizioni di territorio e anche a molteplici scavi esaustivi di singoli siti. Questi scavi hanno dimostrato come in molti casi, al di sotto della fase fortificata tra X e XI secolo, sono state individuate sequenze più antiche, allora assimilabili a una curtis. Oltre al sito di Miranduolo, che abbiamo già visto in una precedente lezione a proposito delle curtis, dove il villaggio curtis di IX secolo era costituito da una zona fortificata con una palizzata in legno, molto importante, ben datata grazie a numerosissime datazioni di Carvono XIV. In un secondo momento, al X secolo, la palizzata viene sostituita da un muro di cinta con soccolo di pietra e poi ancora, nel corso dell'undicesimo, il castello è oggetto di una grande ristrutturazione e della costruzione di tutta una serie di edifici di prestigio, tra cui un donjon e probabilmente un palazzo, addopera della famiglia dei gerardeschi, che ne sono proprietari almeno dal 1004. Una evoluzione simile si vede anche a Poggi Bonsi, dove, dopo una serie di fasi tardo-antiche e alto-medievali, dalla metà del IX secolo alla metà del X secolo, viene costruita la curtis villaggio, ricordiamo, con tutta una gerarchia insediativa caratterizzata dalla presenza di un edificio più importante, la Longhaus e altri edifici secondari. Poi, nella seconda metà del XII secolo, questa curtis viene trasformata nel castello di Podium Boniti, fondato dai conti guidi e poi ancora ampliato e monumentalizzato nel XIII secolo. E ancora il sito di Montarrenti, che nasce tra la metà del VII e la metà del VIII, per diventare nel tempo una curtis protetta da una serie di cinte difensive, il che fa pensare che potrebbe trattarsi di quello che le fonti chiamano curtis cum clausura, cioè curtis murata, per poi nel XII e XIII secolo essere convertita in un importante castello. Minoritari appaiono invece i castelli privi di una presistenza insediativa. Il più famoso è Rocca San Silvestro a Livorno, un castello minerario fondato nel X secolo dalla potente famiglia dei della Gerardesca e che basa, in questo caso il castello, la sua potenza e il suo sviluppo sul controllo dell'estrazione del minerale nel territorio. Questo castello è caratterizzato da una cinta mezza costa e dalla successiva costruzione sulla sommità, alla fine del XI, inizio del XII secolo, di una torre e di una piccola chiesa ad unica navata. In Italia settentrionale i castelli coesistono con villaggi aperti, cioè senza protezione e insediamenti sparsi. I castelli appaiono costruiti a partire dall'inizio del X secolo per proteggere le proprietà dalle incursioni degli Ungari che iniziano nel 899 e continuano per gran parte del X secolo e anche a causa di una forte conflittualità locale tra diversi signori seguita alla crisi istituzionale dell'impero carolingio. I primi a costruire castelli sembrano i vescovi e ci sono vari documenti in cui l'imperatore li autorizza a questo fatto. Ma bisogna ricordare come questi castelli conviviranno con altro tipo di castelli di proprietà statale o gestiti dal fisco e delle autorità che governavano in quel momento e che avevano un'origine tardo-antica come ad esempio Sirmione o Castelseprio o nel territorio padovano il castello di Monsellice. Edifici che hanno una importante espansione a partire del X-XI secolo e nei secoli successivi ma che gli scavi hanno dimostrato come avessero una storia lunga, molto precedente. I castelli, questi e quelli costruiti per difendersi dagli Ungari, risponderanno fin da subito a una logica politica ed economica attraverso la quale gli attori di maggior rilievo come i vescovi o i conti o poi più tardi i piccoli signori feudali impongono un controllo giurisdizionale sulle campagne in un momento, insisto, in cui declina il potere, il controllo dei funzionari imperiali. Il castello, oltre a questa funzione di difesa e protezione, diventa anche uno strumento in mano ai potentes per subordinare i contadini al proprio potere economico e politico che a volte però si scontra quando nel territorio abitano uomini liberi come alcuni di quei arimani ad esempio nel territorio della Saccisica che, come avevamo già visto, si oppongono a essere sottomessi dal vescovo di Padova e chiedono all'imperatore di fare rispettare i propri diritti. Il castello accompagna una fase di espansione economica e demografica che si protarrà fino al XIII secolo, rivelandosi un'istituzione di grande successo che ancora oggi, se ci pensiamo, segna profondamente il paesaggio rurale italiano. Come espressione del potere è solitato dalla sua posizione dominante quando possibile in altura. Questo potere è anche marcato dagli spalti, dalle mura e dal mastio. Nel mastio vi era la residenza più o meno fissa del proprietario del castello e poi dal XII-XIII secolo si costruisce, a volte accanto a questa grande torre, un vero e proprio palazzo. come ad esempio vediamo nel caso del castello di Donoratico, sempre in Toscana e appartenente a uno dei rami della Gerardesca. Il palazzo misurava 10,5 x 8 metri e a Campiglia Marittima invece il palazzo affiancava una casa torre. Ancora più grande pare, vedete qui, casa torre e palazzo. Ancora importante è l'evoluzione del sito di Miranduolo che lo avevamo visto anteriormente, quando nel XIII secolo e dopo la distruzione del castello si costruisce una residenza importante. Dicevo anche in Italia settentrionale questi castelli hanno queste caratteristiche che dicevo prima vengono descritte in più occasioni da Rolandino di Padova, quando racconta l'istruzione di questo, quello castello nel territorio di Padova, di Verona o di Treviso. In questo caso nel castello di Illasi a Verona vediamo un enorme palazzo di pianta quadrata con 20 x 25 metri che viene datato alla metà del XIII secolo. Lo scavo di tutte queste fortificazioni vende scritte spesso nelle fonti scritte, ci permettono oltre che conoscere le residenze dei signori, la presenza di prigioni eccetera eccetera, ci permette di comprendere dove si conservavano ad esempio i prodotti agricoli, se erano i magazzini in legno o in silos o in cantine. E poi molto interessante, e questo è stato studiato in profondità dall'università, dalla scuola senese, tutte le attività di cantiere che portavano alla costruzione di tutti questi grandi edifici e che si possono ancora rivenire a partire dello scavo, ad esempio le calcare, le macchine per impassare la calce, le forgi per i manufatti in ferro e anche gli impianti artigianali per produrre o riparare gli strumenti necessari allo sfruttamento del territorio. Ecco, accanto a questi castelli ci sono altri tipi di fortificazioni che vengono definiti nelle fonti scritte anche come castello dalle mote artificiali con fossato, ben documentate nelle aree della pianura padana ma anche presenti nel sud d'Italia, ai borghi fortificati, spesso di nuova fondazione, che attraggono la popolazione rurale grazie a detenzioni. Nel padovano ad esempio ha il caso di Cittadella o il caso di Castelfranco, cioè borghi fortificati, nuove insediamenti fortificati ma che nelle fonti vengono definiti come castelli perché in realtà vengono costruiti in aree di limitrofi, in aree di conflitto molto spesso. Il potere che comporta la fondazione del castello si accompagna alla conquista di nuovi spazi agrari, con l'estensione del territorio circondante al castello, spesso in forma centripeta rispetto alla fortificazione, anche frequentemente, come avevamo visto in una lezione precedente, con la realizzazione di terrazzamenti al di sotto dei versanti dove è costruita la fortificazione. Ma in altri casi, quando il territorio è più piatto, si osserva la pianificazione di campi di forma stretta e lunga, come vediamo qua nel caso di Cittadella a Padova o di Villafranca di Verona. Questo tipo di campi stretti e lunghi sono caratteristici dal IX al XV secolo e si trovano frequentissimamente in aree dell'Europa, dove vengono chiamati in Inghilterra ad esempio open fields o in Francia campi en lanière. Sono molto caratteristici, quindi è una struttura agraria che ci permette di comprendere che ci troviamo davanti a una strutturazione del territorio di epoca tardo, alto medievale o già del basso medioevo. A Salento, per dare un altro esempio, la crisi del Trecento sembra aver portato all'abandono di alcuni villaggi e a una redistribuzione del popolamento con la creazione di nuovi abitati fortificati, quindi la fortificazione del territorio in questo caso è più tarde. Abitati fortificati dalle forme chiusi, quindi chiusi da fortificazione, con una rete stradale pianificata a griglia e una piazza centrale dotata di una chiesa, come nel caso di Murolecese ad esempio. In contemporaneo alla fondazione di questi insediamenti fortificati si osserva una diffusione delle masserie che sostituiscono alcuni villaggi con un nuovo modo di gestione della proprietà. gestione della proprietà che porta anche a cambiamenti nelle strategie agricole che vedono, più avanti, dalla fine del Trecento e il Quattrocento, quattordicesimo e quindicesimo secolo, una significativa variazione delle colture con un ridimensionamento dei bignetti in favore degli olivetti che richiedevano alti investimenti iniziali e lunghi tempi di attesa prima del raggiungimento della produttività. Cioè la produzione di olio è qualcosa che richiede un investimento a lungo termine perché fino a che non si può fare gli alberi devono crescere. Bene, queste trasformazioni nel tipo di colture che sono state individuate grazie alle analisi archeobotaniche confermano quindi l'intervento delle classi dominanti nella redefinizione degli indirizzi agrari. C'è una serie di potentes che decidono di cambiare il tipo di coltivazione. A livello archeologico, questo massiccio investimento si tradurrà in quasi tutte le città del Salento nella moltiplicazione di impianti per la molitura situati poi in ambienti sotterrani con un incremento della produzione che è confermato anche da un significativo aumento dei resti archeobotanici di olia europea in alcuni siti. Un simile fenomeno si osserva poi nella produzione estensiva di grano e nella moltiplicazione di silos e di fosse granarie dal XV secolo in poi. Grazie a tutti.